Un conto corrente bancario nelle disponibilità di Vito Roberto Palazzolo, ex tesoriere e riciclatore dei capi mafia Tottorrina e Bernardo Provenzano, è stato sequestrato in Thailandia. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte Reale Civile del Regno di Thailandia dopo una rogatoria internazionale su indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinate dalla locale DDA. Palazzolo fu protagonista del traffico internazionale in sostanze stupefacenti che nei primi anni Ottanta legava la mafia siciliana all'estremo oriente e agli Stati Uniti. L'inchiesta che fece emergere il traffico, nota come Pizza Connection, fu coordinata dal giudice Giovanni Falcone e dal procuratore istituale di New York, Rudolf Giuliani. Palazzolo è stato condannato in via definitiva nel 2009 a nove anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, arrestato a Bangkok nel marzo 2012 dopo una attitanza all'estero durata oltre 20 anni. Nel dicembre 2013 è stato estradato in Italia per scontare la pena. Attualmente è in affidamento ai servizi sociali. Il sequestro riguarda un deposito bancario intestato alla moglie israeliana di Palazzolo con un saldo attivo di diverse decine di migliaia di euro.